Allora, allora ragazzi, un po' di carica batteria, vedete, eccoli qua, tutti e tre, questo gigante, non lo so, li ho comprati tanti perché mio fratello continua a romperli, non so come faccia, si scusate, adesso vi spiego il motivo perché ho le mani sporche di un chiossero, stavo usando, e qua praticamente, voi non lo sapete mai, io ho la penna, quella che magari i vostri nonni usavano a scuola, un giorno ve la farò vedere bene, è bellissimo, e oggi siccome non lo usavo da tanto tempo, l'ho usata, e il problema è quello che ci si manchiano le mani, vabbè, succede, quindi io direi di aprirli, iniziamo da questo, che già mi ispira, ho la batteria del telefono scarico, vediamo già bene, c'è anche un adesivo, benissimo, lo cerco di, forza, sto tipo rompendo metà scatola, questo è quello che ho usato, perché non ho taglieri indisponibili, ah, ah, carino, forse, dice che è resistente, ma non è mio fratello che rompe le parti del cavo, non proprio, proprio questa parte, il primo l'abbiamo ambozzato, questo, mi incuriosisce, abbastanza, aspettatevelo a prendere i taglieri, ok ragazzi, lo prendo, quindi, eccolo qua, fatti i salti mortali, sì, ma apriti bene anche tu, ah, questo diciamo che è un po' più lungo, un altro, sì, ah, si apriva, ok, tre normalissimi canicabatterie, quindi in questi mesi, in questi giorni, vi darò le mie opinioni, quelle di mio fratello e quelle che ho chiuso nel padre, e noi ci vediamo, in un prossimo video, solo ci stanno con la fotocamera, quella, presente quando potete vedere il telefono, è non quella che c'è dietro, ma, bensì, vabbè, quindi noi ci vediamo in un prossimo video, e prendo la sedia, e ci vediamo, ciao!